Salve a tutti ragazzi e benvenuto ad un nuovo video. Allora, era da un po' che non ci vedevamo. Oggi vorrei leggervi questo breve post che ho condiviso oggi su Facebook che riguarda, diciamo, un binomio un po' strano. E diciamo che sembra quasi il titolo di una storiella, ma in realtà è una riflessione più che una storiella. Infatti questo post preso dalla pagina Facebook Yoi si intitola Facebook e l'uomo del Tao. E quindi volevo leggervi appunto questo breve post che però sembra interessante. E infatti qui dice Quindi è legittimo osservare che un praticante, a maggior ragione un maestro, farebbe meglio a non sbandierare i propri dann, soprattutto se concessi dalla propria organizzazione e non conquistati con un esame, come si fa tra l'altro in alcune federazioni che dal settimo dann in poi li si prende per meriti e non più per esame. Per lui dovrebbe valere quanto scrive Richard Kim a proposito di Funakoshi. Nello stesso modo, se l'ortografia non è a posto e la grammatica vacilla, ci si espone ai commenti di chi ha qui scritto senza H, fatto apposta diciamo, di chi ha notato gli errori, no? Ecco, vedete, questo breve post è anche molto particolare, no? Magari può sembrare anche un po' misterioso, un po' sibillino da certi punti di vista. Però mi faceva piacere, diciamo, condividerlo insieme a voi, anche perché questo poi può dare... Ecco, qui ci sono veramente degli spunti per delle belle riflessioni, però se cominciassi a fare tutte queste riflessioni staremmo qui fino a domani. Però, detto molto sinteticamente, ecco, volevo concentrarmi un attimo proprio sul concetto di non sbandierare i propri danni, no? Soprattutto se magari concessi per meriti e non per esami. Ecco, io in tempi non sospetti, l'anno scorso, quando cominciai a... Anzi, no, l'anno scorso, mi sembra proprio quest'anno, all'inizio del 2020, ovvero quando avevo iniziato da poco a fare video. Se ricordate, io vi parlai di una pratica molto diffusa, purtroppo, nel karate, soprattutto nel karate sportivo, che io non condivido e che a me non mi piace per nulla, e cioè dei passaggi di cintura per vittorie alle competizioni. Cioè, tu vinci una competizione, ti classifichi e prima diventi cintura nera. Purtroppo io le ho anche viste queste cose. E vi assicuro che non è bello, anche perché, come vi dissi all'epoca, e ve lo ribadisco, tu in gara esegui un kata, però non mi puoi diventare cintura nera eseguendo solo un kata. E il kihon? E il bunkai? E il kumite? Dove li mettiamo? L'eventuale parte teorica? Dove la mettiamo? Ecco, vedete, no? Quindi, come vi ho già detto, io non sono contrario alle gare in quanto tali, ma sono contrario, diciamo, ai passaggi di cintura che vengono a volte fatti nelle gare, no? Quindi qui un po' la stessa cosa, appunto, il voler magari ricevere tutto e subito e magari volere quest'ansia di voler fagocitare gradi, voler fagocitare dan, soprattutto, no? Certo, è una soddisfazione salire di livello, salire di grado, indubbiamente. Però, sembra un po' banale dirlo, ma purtroppo in tanti sembrano non capirlo, un grado ovviamente te lo devi meditare, te lo devi sudare, perché nel karate, così come nella vita, ovviamente nessuno ci regala niente. Con questo, ovviamente, non voglio neanche demoralizzare chi aspira a un grado più alto, una qualche soddisfazione personale nel campo delle arti marziali. Dico semplicemente che tutto arriva, il famoso detto, no? Tutto arriva a chi sa aspettare, ecco. Con pazienza, con perseveranza, con impegno, pian piano poi si raggiungeranno un po' tutti gli obiettivi che ci si è prefissati. Ma questo ovviamente non vale soltanto per il karate, ma anche per tutti gli ambiti della vita. Lavorativi, anche sportivi, affettivi e quant'altro. Ecco, quindi volevo un po' fare con voi questa riflessione, proprio prendendo spunto da questo post che ho condiviso stamattina sulla mia bacheca Facebook. Bene, io ho concluso questo mio video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mettete like, commentate, condividete. E se i miei contenuti vi piacciono, iscrivetevi al canale. Io, come al solito, vi ringrazio per l'attenzione e ci rivediamo ad un prossimo video. Arigatou gozaimashita.